Conservare e valorizzare i mobili storici rurali, migliorare la qualità del paesaggio, dare nuova vita al patrimonio architettonico calabrese ed ancora rigenerare piccoli siti e luoghi di interesse pubblico. E' questo l'obiettivo dell'assessorato regionale allo sviluppo economico e agli attrattori culturali guidato da Rosario Varì, che ha messo a punto un bando con una cospicua dotazione finanziaria, circa 33 milioni di euro finanziati all'Unione Europea con il Next Generation, in grado di restaurare l'identità del paesaggio rurale calabrese. L'avviso pubblico, che da ieri è in preinformazione e da breve verrà pubblicato, si inserisce perfettamente nell'ambito delle politiche comunitarie di sostegno di processi di sviluppo rurale. Dunque, restaurare l'identità del paesaggio rurale comporterà la restituzione e la fruizione di un patrimonio testimone della più dignirosa eredità che il paesaggio contadino della Calabria ha da tramandare in un settore produttivo che ha costituito l'ossatura della nostra economia. Restaurare questo passato ci offre la possibilità di arricchirci e riappropriarci della vita contadina, producendo inoltre un duplice beneficio, dare un nuovo impulso all'afflusso turistico ed alleviare l'impatto della crisi. Così, l'assessorata allo sviluppo economico, dopo aver lavorato sulla linea A del bando per l'individuazione di Gerace come borgo sul quale investire 20 milioni di euro, con questa seconda iniziativa dimostra di essere estremamente attento a tutte le possibilità offerte dal PNRR. Una occasione, afferma l'assessore regionale, che la Calabria ha tutta l'intenzione di mettere a frutto in ogni ambito. Il bando, oltre a prevedere interventi di valorizzazione del patrimonio rurale, si prone anche come obiettivo quello di creare iniziative e attività legate a una fruizione turistico-culturale sostenibile, legata alle tradizioni e alla cultura locale. Nello specifico, gli interventi potranno essere immobili, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale, ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti dagli strumenti regionali e comunali, e quindi edifici rurali e destinati ad attività funzionali all'agricoltura, strutture e opere rurali, ed infine elementi della cultura, religiosità, tradizione locale. Il contributo è concesso fino ad un massimo di 150 mila euro come forma di cofinanziamento per una liquida dell'80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando che la soglia massima di finanziamento è di 150 mila euro. Possono presentare domande di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e no profit, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative e imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale.